La nuova era Valtour sancisce un nuovo inizio in casa New Basket Brindisi, un matrimonio compiutesi dopo un lungo flirt avvenuto proprio nell'anno della rinascita. Ironia della sorte per qualcuno, ma non per Maurizio Primiceri, che ha parlato di questa come un'occasione che né Brindisi e né Valtour potevano lasciarsi scappare. Gli intenti si vedeva immediatamente che erano comuni. Insomma, associare appunto un marchio legato al turismo, legato alle attività che appunto il gruppo Pagliara e col marchio Valtour svolge in tutto il mondo, sarebbe stato l'ideale per affiancare la scuola di Brindisi. Lo sarebbe stato in A1, ma probabilmente l'evento negativo che abbiamo subito quest'anno fa in modo che sia una ripartenza, cioè una vera ripartenza, associandoci con questo forte sodalizio che è destinato o destinato a durare nel tempo, è veramente un punto di partenza. Tante le iniziative di marketing in vista, divertimento e intrattenimento saranno le parole chiave. È presto per spoilerare troppo, ma sicuramente ne vedremo delle belle, le vedremo non soltanto qui sul territorio, ma approfitteremo della nostra diffusione su un territorio nazionale e internazionale. C'è una missione che noi abbiamo, che è quella di portare dei valori positivi all'interno delle famiglie che sono le nostre audience d'elezione senza dubbio, sia per noi che per il basket. Questo possiamo farlo facendoci aiutare dal buon gioco e dal fair play che caratterizza il basket. Lo faremo anche sul territorio, lo faremo anche nei nostri resort. Tutto quello che costruiremo insieme punterà a divertire e intrattenere il nostro pubblico e i nostri tifosi. Grazie.